buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi mercoledì 26 settembre vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali beh certamente quello più importante secondo me oggi perché si tratta di un vero e proprio scandalo avete sentito bene la parola scandalo è la questione del decreto sul ponte di genova perché è uno scandalo perché dimostra come in realtà questi politici non soltanto i nostri burocrati alla fine se ne fottano delle questioni reali e guardate io su questa cosa qui sono furibondo perché se io fossi uno di quelli che una delle 13.000 imprese che sono state coinvolte dalla caduta del ponte morandi se fossi una delle famiglie che sta là sotto a genova se io fossi uno dei tanti disoccupati genovesi che sperava di avere una possibilità nella crescita del porto del turismo insomma quando vedo come si è comportato questo governo ha fatto altre cose per esempio il decreto sicurezza lo sapete ne ho parlato a lungo bene e nei giorni scorsi è una cosa positiva ma quando vedo la loro incapacità di fare un decreto su genova per la ristrutturazione di quel ponte nel senso che stanno perdendo tanto di quel tempo non tanto per far la cosa migliore ma perché non si mettono d'accordo su nulla ciao dante buongiorno allora a quel punto veramente mi viene il sangue al cervello ha ragione mattia feltri oggi nel suo feltrino della stampa in cui dice ma scusate il decreto è di urgenza e di necessità questo è uno dei pochi decreti di urgenza e di necessità che il governo avrebbe dovuto fare altro che dignità dico io e altro che sicurezza potevano fare due disegni di legge dice dicono in molti perché ancora a 45 giorni della caduta del ponte non ha visto luce questo decreto non abbiamo un commissario non sappiamo come dobbiamo distruggere il moncone del ponte non abbiamo ancora le idee minime di come iniziare abbiamo solo un regalino fatto da piano che è un architetto e non un ingegnere e questa follia di pensare che a fare il ponte sia la fincantieri dichiarazione pubblica del ministro dei trasporti che è l'unica azienda in italia una delle poche aziende in italia di costruzione oltre che di navi anche di ponti che non ha l'autorizzazione per fare un ponte di quel tipo ce ne sono 840 di società in italia che possono fare un ponte di quel tipo ma non la fincantieri ma vado avanti il motivo per il quale oggi non sarebbero arrivato al quirinale probabilmente oggi si degneranno di pubblicarlo in gazzetta ufficiale e che non è uno segnato i costi di questa di questo decreto e in italia i costi non è che ci vuole il mago zurlino non è che sono quei pezzi di emme del ministero dell'economia a pretendere che ci siano le compatibilità economiche quando si fa una legge e in tutto il mondo in ogni buona famiglia si dice se faccio un investimento se c'ho i soldi per farlo anche nell'urgenza di un ponte non le avevano previste ma vado oltre il commissario i poteri del commissario non abbiamo ancora una persona che è responsabile di questa roba qua sono passati 45 giorni a casa mia il giorno dopo avrebbero dovuto prendere non so bertolaso vieni qua io adoro bertolaso prendi un altro tu fai commissario e ti metti in mente di come risolve il prima possibile questa vicenda invece siamo qua che facciamo i fenomeni con le dichiarazioni oggi c'è una commissione ministeriale che invece quella è stata bravissima mentre ancora non sono riusciti a fare il decreto per capire quello che succederà nel futuro e come risolvere il problema nel futuro c'è una commissione ministeriale titolo della verità titolo del fatto il titolo del fatto sapevano e non hanno fatto nulla cioè in 20 giorni la commissione ministeriale ha detto che i beretton sono responsabili perché sapevano che il ponte sarebbe più o meno crollato e stava in cattive condizioni non hanno fatto nulla io dico quale imprenditore si assume la responsabilità di non fare nulla con un ponte che sta cadendo secondo me è una follia ma pur dando per acquisito che questi del ministero della commissione ministeriale abbiano trovato questa roba qua quelli della commissione ministeriale che in 20 giorni fanno quello che non riesce a fare il ministro c'è un decreto sanno che all'interno del ministero c'è una direzione apposita che si chiama vigilanza sulle concessioni autostradali e quei cazzo di dirigenti di questa commissione che stavano al ministero che cosa hanno fatto in questi anni se in 20 giorni questi hanno scoperto che non facevano nulla e benetton perché negli ultimi 15 anni al ministero non hanno vigilato per far sì che si mettesse le concessioni servono a questo c'è un imprenditore che può essere un ladrone un imprenditore che può approfittarsene c'è una direzione al ministero che li controlla se questa direzione che ha come titolo il controllo delle concessioni non ha controllato cari ministeri a loro invece non diciamo nulla ma la cosa che a me fa rabbia è che noi abbiamo già trovato un colpevole già ci sono i titoli del giornale ma non abbiamo ancora non abbiamo ancora un decreto e il decreto non varrà ancora nulla perché dopo il decreto bisogneranno fare le gare bisognerà trovare chi lo costruisce bisognerà spiegare a toninelli che non lo può fare solo fin cantieri ecco questa è una di quelle cose che mi fa impazzire giorgio santilli sul sole 24 ore dice più o meno le stesse cose dette molto meglio nel frattempo però il decreto genova una minchiata l'ha fatta sapete state attenti non hanno trovato i soldi per le coperture del ponte state attenti sapete che cosa hanno fatto una gabbia di matti di qualcuno di voi ve lo dico io hanno tagliato 761 milioni di euro che erano previste per il sesto troncone del terzo valico cioè la ferrovia che da genova porta a milano questi delinquenti cioè non riesci a trovare i soldi per rifare il ponte e tagli 760 milioni per fare la ferrovia il sesto 300 persone dicono sono già spasso se dovesse passare questa roba qua allora questa è una di quelle cose che ti fa capire come questi piccoli gesti siano disastrosi disastrosi per questo nostro paese ovviamente tutti noi siamo contenti per il decreto sicurezza almeno molti di noi lo sono ma quando tu vedi come si comportano in materia economica questi qua ti metti le mani nei capelli deficit secondo il sole 24 ore ci sarebbe un'intesa sarebbe intorno all'1,9 2 per cento rispetto all'1,6 rigoroso che voleva tria e anche qua non va bene quando di maio dice con reddito dobbiamo aboliremo la povertà è una roba che io non so chi possa convincere qualche cioè quando il ministro sviluppo economico dice aboliremo la povertà è renzi all'ennesima potenza di mai renzi sullo stesso identico piano identico aboliremo la povertà non è una frase che uno può sentire da un ministro e soprattutto se l'abolizione della povertà avviene attraverso il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza due minchiate clamorose per le quali noi aumenteremo il deficit io mi rivolgo ai leghisti del nord mi rivolgo a garavaglia che ha avuto l'altro giorno in trasmissione anzi al papà di garavaglia al papà di garavaglia che ha lavorato per 40 anni caro papà del vice ministro garavaglia prenda suo figlio e gli dica caro figlio mio tu sei vice ministro di questo governo tu stai aumentando i debiti di questo governo e non lo stai facendo per ridurre il fisco non lo stai facendo per ridurre le aliquote lo stai facendo per dare una pensione di 780 euro e un reddito di cittadinanza di 780 euro a milioni di persone che lo utilizzeranno come un sussidio assistenziale quindi noi mettiamo debiti sul nostro futuro in un paese che già di debiti ne ha tanto perché cosa per avere questo maggiore assistenza io la trovo una cosa incredibile nel frattempo ovviamente oltre a aumentare il debito secondo il Corriere della Sera faremo un taglio alle detrazioni fiscali oggi se voi andate in farmacia avete degli interessi sul mutuo avete delle spese universitarie potete detrarvi il 19 per cento di questa spesa chiaro secondo quello che è la previsione di alcuni bisognerà tagliarlo al 17 per cento 2 per cento in meno di detrazione poca roba già il 19 e poco figuratevi voi il 17 e altrettanto poco comunque si fa cassa attraverso la riduzione delle detrazioni fiscali va anche bene va anche bene tagliare le detrazioni fiscali ma io taglio le detrazioni fiscali per pagare le pensioni di anzianità io taglio le detrazioni fiscali aumento il deficit per pagare il reddito di cittadinanza io in un paese normale taglierei le detrazioni fiscali e abbasserei le aliquote per tutti meno tasse meno detrazioni fiscali se mai non meno detrazioni sulla sanità per pagare le pensioni di cittadinanza porca puttana ma ci arriva anche un bambino e comunque dice di maio bene aboliremo la povertà bello il pezzo oggi di meotti come spesso avviene sul foglio cambiando completamente discorso in cui ci racconta cosa sta succedendo agli ebrei di francia le famiglie diminuiscono sono sempre più intimorite vanno via ci sono effetti anti sionismo antisemitismo scusatemi dilagante frinkelfraut dice che quel tipo di antisemitismo non l'aveva mai visto in vita sua e finisce meotti dicendo e gli ebrei in francia sono come i canarini per i minatori quando l'aria diventa mortale i canarini muoiono per primi e minatori si accorgono attraverso la morte dei canarini del segnale di un pericolo lo stesso segnale pericolo noi europei dovremmo sottintende meotti capirlo dalla scomparsa delle famiglie ebree dalle quartieri e dalle città francesi ma meotti caro meotti io condivido al 100 per cento tutto quello che tu dici ma in realtà il canarino non è il montare del razzismo non è il montare del fascismo non è i piccoli mussolini di cui parlano i ministri francesi ma è la politica scellerata dei moscovici di tutta questa intelligenza di sinistra delle mie balle che ha reso la francia un paese sua diso multiculturale di cui multi c'è poco e di culturale c'è solo quello islamico fondamentalista già vista di alcuni quartieri francesi ben descritti da un blebec invece che dalla vostro bonismo e dell'accoglienza il caravino è questo gli ebrei scappano perché ci sono i fondamentalisti islamici non perché c'è mussolini in europa i due fondatori di instagram dopo sei anni vanno via da facebook i giornali oggi si lamentano e dicono eh perché sbattono alla porta preoccupati dell'indipendenza del loro instagram ma instagram l'avete venduto a un miliardo di euro a zuckenberg ma non rompete le balle l'avete venduto a un miliardo di euro fatturava 30 milioni aveva 30 milioni adesso c'è un miliardo mi sembra di utenti l'hanno fatto diventare un mostro gigantesco siamo preoccupati dell'indipendenza io mi preoccuperei degli investimenti del vostro miliardo io la trovo fantastica questa idea dei giornali italiani per i quali i fondatori di instagram di whatsapp prima vendono le loro aziende a al cattivone per miliardi e miliardi di euro poi dopo qualche anno se ne vanno via perché il cattivone decide di diventare di farle diventare di successo come facebook e noi come oggi sul Corriere della Sera piangiamo all'indipendenza di instagram l'indipendenza sapete come si fa non vendendo se ne avete la forza e il coraggio ultima questione di vendita è quella di Donatella Versace non Donatella Rettore che oggi in un'intervista dice una cosa molto ragionevole cosa dice al Corriere della Sera guardate che io ho venduto agli stranieri e gli stranieri investiranno in Italia renderanno sempre più grande questa azienda e creeranno sempre più lavoro in Italia e comunque dice Donatella Versace e ha perfettamente ragione io gli offerte italiane per Versace non ne ho avute e da tempo che l'azienda era in vendita e allora che facciamo la facciamo fallire e quante insomma è di questo sapete benissimo come la penso io e vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it e alla condivisione di questo articolo se vi piace di questa zuppa se vi piace noi ci vediamo domani come sempre ciao